ciao a tutti e bentornati qui shesanna oggi testeremo insieme un po di novità tra cui alcuni prodotti della miami light collection di nabla mi raccomando rimanete fino alla fine del video perché verrà estratto il vincitore del giveaway quindi adesso vando alle ciance e cominciamo come vedete ho già fatto le sopracciglia e applicato il fondotinta perché per questi prodotti non avevo novità da farvi vedere sui capelli invece vado applicare queste mollettine che ho acquistato su amazon e che hanno il claim di non rovinare la messa in piega cioè di non lasciare la strisciata dove le applichiamo sui capelli vediamo se sarà vero se nei close up mi vedete con delle righe qui vuol dire che non hanno funzionato andiamo ad applicarle una di qua l'altra di là e possiamo partire con il primo prodotto che è un correttore si tratta di questo qui della wicon ovvero il one more time liquid concealer questo fa parte della collezione estiva di wicon e ho deciso di acquistarlo perché in un video basic gaia è rimasta colpita da questo prodotto perché le lasciava il contorno occhi fresco cioè nel momento dell'applicazione le dava questa sensazione di freschezza questa cosa mi ha incuriosito e visto che lei comunque in generale con questo prodotto si trova molto bene ero curiosa di testarlo il packaging è quello di tutta la collezione quindi argento con questi pois colorati che mi piacciono molto il colore interno invece varia a seconda della tonalità che scegliamo io ho scelto la 01 fair e il tappo è giallo mentre per altre colorazioni e mi pare rosa fucsia oppure arancione anche il tappo è molto carino con questi po argentati e vediamo se rispetta il claim del sito sono infatti sul sito di wicon dove a proposito di questo correttore si dice correttore levigante dalla texture incredibilmente fresca e leggera che dono un istantaneo smoothing effect fin dalla prima applicazione formulato per nascondere occhiaie borse imperfezioni offre un'alta copertura ed un risultato soft focus donando alla pelle un aspetto più giovane e levigato ricco di attivi idratanti e con un'alta percentuale d'acqua da un'immediata sensazione di freschezza ed un piacevole feeling di idratazione e comfort quindi anche il sito dice che indossandolo si ha effettivamente questa sensazione di freschezza andiamo a vedere lo scovolino è così piatto e vediamo se effettivamente questo prodotto rispetta il suo claim ne applico un pochino anche dell'interno dell'occhio proprio per andare a coprire tutte le occhiaie e poi lo vado a sfumare con una blender questa qua è una mini blender della real techniques la vado a bagnare con un po di eau de resane di caudalie e via andiamo a sfumare questo prodotto effettivamente devo dire che applicandolo ha questa sensazione di freschezza ha una texture comunque molto molto gradevole e si ha un effetto un po' particolare non è come mettersi un cubetto di ghiaccio sotto gli occhi insomma però effettivamente ha una texture molto molto fresca vado a sfumarlo questo è il risultato avvicino un pochino lo specchio sì devo dire che ha un bel effetto effettivamente la zona risulta bella levigata però non lo definirei un full coverage cioè ad alta coprenza secondo me ha una coprenza media ma ha una texture comunque molto molto leggera molto levigante e devo dire che secondo me è perfetto per l'estate oltre che per la sensazione di freschezza un pochino che dà anche proprio perché appunto si si fonde bene con la pelle quindi per ora approvato andiamo a settarlo con la mia solita brighten up di essence perché non ho novità per le ciprie ma ci tenevo a farvi vedere che ci ho fatto un buco quindi è veramente un prodotto che mi piace tanto perché avendone tante difficilmente arrivo in fretta a fare un buco appunto in una cipria ero molto orgogliosa di me e quindi ci tenevo a condividere con voi questo mio risultato vado ad applicarla col mio solito pennello di morfi devo dire che anche una volta settato il risultato è molto bello e come sempre se state cercando una buona cipria ad un prezzo veramente accessibile per il contorno occhi questa qui è distrutta e consigliatissima adesso faccio anche l'altro occhio e torno da voi già che c'ero ho settato anche il resto del viso ed ho utilizzato questa cipria qui di laura mercier che è una delle mie cipre libere preferite in polvere libera che è la translucent setting powder passiamo dal super low cost al high end ma come vi dicevo per me contano solo i prodotti validi passiamo invece adesso alla nuova collezione di nabla che si chiama miami light collection il primo prodotto di questa collezione è un bronzer che c'è in quattro tonalità ed è lo skin bronzing che è ispirato un pochino al nome degli skin glazing cioè l'illuminante usciti l'estate scorsa gatto è il momento di farsi le unghie sul tiragaffe c'è questi illuminanti con una texture veramente veramente molto sottile che vanno a fondersi con l'incarnato e a dare appunto una luminosità senza fare strato l'unico colore che andava bene per il mio incarnato era il primo quindi la tonalità più chiara io l'ho swatchato in negozio devo dire che la consistenza era veramente perfetta perché avevano questo trito finissimo questa bella luminosità si fondeva con la pelle ma era un colore veramente veramente tanto aranciato voi lo sapete a me i bronzer troppo caldi da questo punto di vista ma non caldi in generale perché caldo sul rosso ci può anche stare infatti c'è un prodotto magari perché mi dilungo non dilungarti e se l'avessi comprato avrei buttato via i soldi solo per fare questa recensione e quindi non me la sono sentita e ho deciso di non acquistarlo se però a voi piacciono i bronzer caldi o comunque potete permettervi di utilizzare una tonalità più scura perché avete la pelle più scura della mia secondo me è un prodotto molto valido vado ad applicare come bronzer invece questo qui dell'ultima collezione estiva della kiko che ho recensito in questo video quindi la unexpected paradise collection e questo è il bronzer nella colorazione 02 universal sienna ho scelto questo bronzer perché è luminoso e quindi volevo rimanere nel modo di tutta la collezione passiamo adesso al blush in questa collezione sono uscite due nuove tonalità delle skin glazing che sono appunto queste polveri luminose pensate non solo come illuminanti quindi per essere applicate in questa zona del viso ma ovunque noi abbiamo voglia di dare luminosità infatti già nella collezione dell'anno scorso c'era una tonalità che poteva essere utilizzata come blush quindi sono delle polveri multifunzionali quest'anno sono uscite due nuove colorazioni la prima che si chiama independence che è un rosa molto delicato tende un pochino al freddo al malva secondo me è un bellissimo colore mentre il secondo è un corallo molto acceso e si chiama lola che è poi il prodotto che ho deciso di acquistare in primis perché questa colorazione è davvero molto molto estiva e poi perché conoscendo la texture di questi prodotti mi sono detta che anche essendo comunque bello pigmentato sono polveri davvero sfumabile e quindi anche se il colore è così intenso sarebbe comunque potuto andare bene per il mio incarnato non è stata una scelta facile perché anche l'altra colorazione era molto molto bella sono stata tentata per un momento di acquistarle entrambe però poi mi sono detta per ora acquisto questa che è molto più estiva poi magari con l'autunno potrei pensare di acquistare anche l'altra colorazione andiamo ad applicarlo prima però vi faccio uno swatches eccolo qui è veramente un colore molto molto bello e per applicarlo vado ad utilizzare questo pennello qui di nabla che è il cheek shaper in realtà questo è perfetto anche per il contouring proprio per la sua forma a goccia ma volendo io oggi un effetto più sfumato più diffuso ho usato il pennello grande della Kiko mentre questo qui lo userò per applicare il blush quindi in una zona più circoscritta mentre questo qui lo utilizzerò per applicare il blush parto con poco prodotto perché non so effettivamente quanto sia pigmentato e pian pianino vado sulle mie guance il risultato è davvero davvero molto molto bello la polvere si è sfumata subito ed ha la particolarità che è la stessa poi degli illuminanti di fondersi benissimo con l'incarnato senza creare assolutamente strato cioè si è fuso perfettamente con la pelle e sembra veramente il colore delle mie guance vado ad intensificarla ancora un pochettino per vedere cosa succede ok si è stratificabile non vado oltre perché non voglio esagerare ne applico come sempre un pochino anche qui sul naso e poi sull'altra guancia questo è il risultato e devo dire che mi piace veramente veramente tanto proprio per questa caratteristica di diffondersi perfettamente con il viso senza fare macchia e come vi ho detto sembra proprio il colore della mia pelle e quindi veramente sono contenta dell'acquisto e mi sa che a budget per l'autunno verrà inserita anche l'altra colorazione passiamo adesso invece all'illuminante e come illuminante mi sembrava giusto utilizzare un illuminante della stessa gamma io ne ho tre addirittura che sono privilege che è questo qui un pochino più rosato ma leggermente quindi è un oro rosa diciamo ho amnesia che è questo oro intenso ma che va molto meglio quando sono abbronzata e ancora non lo sono e poi ho ozone che è il classico champagne io direi che essendo già il blush molto rosato andrei ad applicare questo ve lo swatcho comunque sulla mano per darvi un'idea della colorazione ve lo swatcho proprio a fianco del blush e come vi dicevo questo è un prodotto uscito l'anno scorso e le caratteristiche sono le stesse che vi ho detto per il blush è poi il prodotto da cui tutta questa linea è partita vado ad applicarlo con il pennellino di Nabla che era uscito insieme a questo illuminante e devo dire che anche questo è un prodotto che mi piace veramente molto se vi piacciono gli illuminanti che veramente si fondono con la pelle questo è il prodotto per voi tra l'altro che vi piaccia l'illuminante più intenso o più delicato questo è veramente un prodotto che potete gestire e poi come sempre riprendo il pennello del blush e lo risfumo sopra l'illuminante in modo da far fondere le due polveri questa è la base viso completata e direi che con l'illuminante alla fine non sono stata poi così delicata ma l'effetto è davvero molto bello passiamo adesso a quello che è il pezzo forte di questa collezione che è la glitter palette palette de paillettes se riuscite a dirlo dieci volte di fila senza impappinarvi dieci punti appena l'ho vista questo ho detto ok la voglio poi ho guardato tutto il resto della collezione e secondo me appena ve la farò vedere capirete anche voi perché questa è la palette ha questo bellissimo packaging che è tutto trasparente se me l'avessero descritto avrei detto bah non so invece vedendolo così è veramente veramente molto bello e poi il punto focale della palette sono appunto le quattro cialde di glitter la particolarità di questa palette è che le cialde sono composte da glitter di diverse dimensioni perché ci sono sia dei glitter dal trito molto sottile multicrome e dei glitter un pochino più grandi sono una specie di piccoli cerchi di piccoli pois secondo me poi capirete meglio cosa intendo guardando gli swatches e adesso mi piacerebbe leggervi le premesse di questo prodotto perché non sono poche il sito di nabla infatti descrive questo prodotto come una formula ibrida con un mix di glitter multidimensionali sottili e chunky con aderenza immediata e nessun fallout che non necessitano di nessun primer o colla per glitter facili da applicare con le dita vegan e cruelty free queste secondo me sono veramente premesse non da poco e renderebbero questo prodotto veramente molto versatile perché oltre ai colori che sono effettivamente bellissimi è una palettina anche molto molto piccola e che potremmo portarci ad esempio in viaggio come complemento ad una palette di ombretti classici senza nessuna particolare accortezza quindi senza pensare ad un particolare primer senza utilizzare una glitter glue perché dovrebbero appunto rimanere sulla palpebra anche senza aver applicato nulla al di sotto e non creare fallout questo lo potremo verificare solo con l'applicazione quindi vi lascio agli swatches e ci ritroviamo per il trucco occhi le quattro tonalità sono aries trasparente con riflessi olografici arancio lime, lilla e magenta musis rosa fluo con riflessi verdi topazio e lilla elettrico firmament lilla brillante con un prisma olografico di riflessi oro magenta indaco e ambra scorpio ruggine rosato brillante su base smoky a questo trucco sempre per rimanere in tema nabla ho deciso di abbinare la coral palette su questo canale vi avevo già fatto vedere in azione la wild berry vi lascio il video qui questa invece essendo una palettina dell'estate scorsa non avevo avuto ancora modo di farvela vedere in azione questa è una delle mie palette preferite per i trucchi estivi e devo dire che i colori come vi dicevo mi piacciono molto mi piacciono molto questi due shimmer in particolare questo qui che si chiama mandarin vi faccio uno swatches al volo è un colore che di per sé non è molto pigmentato ma ha tantissimi riflessi e quindi mi piace tantissimo ed io lo trovo perfetto per andare a illuminare l'interno occhio mi piace tantissimo feeling questo bellissimo colore che mi ricorda molto i fenicotteri anche questo rosso è molto bello anche coral amber è molto carino l'unico colore col quale non mi trovo benissimo è quello più scuro questo marrone qui anyway perché faccio fatica ad abbinarlo con gli altri colori della palette perché è un marrone molto freddo e anche quello un pochino più difficile da gestire perché diciamo che non si sfuma proprio facilmente quindi ha bisogno di qualche accortezza in più però in generale è una palette che mi piace molto io ho già applicato un pochino della base di P.Louise non tanto per i glitter perché appunto il claim ci dice che potremmo applicarli senza ma per far risaltare gli ombretti io comunque vado sempre ad applicare una base occhi al di sotto dei miei makeup quindi ho fatto semplicemente quello che faccio sempre vado ad utilizzare il set di Nabla uscito insieme a queste palettine qui e voglio partire proprio con il colore feelings lo vado ad applicare nella mia piega e come sempre mi raccomando con questa base prima tamponare e poi sfumare questo è un colore che richiede un pochino di essere stratificato direi che la pigmentazione è comunque buona ma diciamo che rispetto ad altri ombretti come ad esempio quelli di Anastasia Beverly Hills richiede una o due passate per raggiungere una buona intensità ecco fatto non voglio fare un trucco chissà che complicato perché voglio che i protagonisti di questa palette comunque rimangano i glitter quello che vado a fare è prendere questo altro pennello di questa collezione che secondo me è veramente il più particolare quello che apprezzo di più che è il Pointed Crease perché è un pennello da sfumatura ma molto molto piccolo molto molto fine e è perfetto per andare ad intensificare la nostra crease che è appunto quello che vado a fare adesso prendo un po' del colore Red Shape quindi questo rosso Shimmer e lo vado appunto a sfumare nella mia crease ma solamente appunto all'attaccatura della palpebra fissa questo è un colore molto molto bello molto pigmentato e come vedete ha dato subito profondità e intensità al look vado a riprendere il pennello da sfumatura di prima un pochino di feeling e vado a ridefinire i contorni e a sfumare bene i due colori dove si incontrano quello che vado a fare adesso è non conoscendo questo prodotto e comunque avendo questi glitter una base trasparente non voglio che rimangano delle chiazze bianche sulla mia palpebra quindi con il dito vado a prelevare I Got You che è lo shimmer più rosato non ne prelevo tanto giusto appena appena per colorare la palpebra e lo vado a sfumare su tutta la palpebra mobile poi con il mio mignolino come faccio sempre per l'angolo interno vado a prelevare mandarin quindi il colore qui in alto e lo applico appunto come punto luce all'interno dell'occhio passiamo finalmente alla palette di glitter io vorrei utilizzare questi colori qui qua in alto questo perché nel mio ultimo video se non l'avete visto molto male ve lo lascio qui sopra ho già fatto un look proprio su queste tonalità dell'azzurro e quindi questi due colori ve li farò vedere sicuramente in seguito adesso voglio concentrarmi su questi due prelevo questo qui quindi Muses parto con poco perché non so appunto quanto vadano a coprire la palpebra e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile beh devo dire che hanno aderito senza nessuna difficoltà e mi sembrano un buon prodotto perché permettono diverse intensità cioè possiamo utilizzarli in modo sfumato sulla palpebra per dare una luminosità generale all'occhio o intensificare un po' di più che è poi quello che vorrei fare adesso visto che siamo in ballo bagliamo e vediamo fino a dove questo prodotto può arrivare ne prelevo ancora un po' appunto e vado ulteriormente ad intensificare devo dire che l'effetto è molto molto bello e mi piace molto il riflesso azzurro violaccio che hanno questi glitter con un altro dito libero vado a prendere un pochino di glitter questi qui più chiari Aries e li vado a tamponare all'interno dell'occhio quindi sul dotto lacrimale per andare a creare un punto luce e questi qui avendo un riflesso verde ma anche arancione si sposano secondo me molto molto bene con mandarin e poi un pochino vorrei tamponarli anche al centro della palpebra proprio per fare un altro punto luce devo dire che l'effetto è molto bello e per ora il claim del prodotto è rispettato perché ha aderito perfettamente alla palpebra e non c'è assolutamente nessun tipo di fallout sul viso e questo secondo me è ottimo perché di solito i glitter nonostante siano bellissimi sono un prodotto un pochino laborioso da utilizzare perché rischiamo di ritrovarceli poi su tutto il viso e quindi questa palette secondo me li rende veramente molto più accessibili a tutti e molto più sfruttabili anche da chi appunto non ha pratica con glitter glue eccetera quindi se cercate un tipo di glitter facili da utilizzare senza particolare accortezze secondo me questo è un prodotto sul quale potete fare affidamento che secondo me è molto bello perché i glitter danno veramente un bel effetto quell'effetto extra che tante volte un ombretto luminoso non riesce a darci adesso finisco il look applicando un pochino di feeling su tutta la rima inferiore passiamo adesso all'altro prodotto di questa collezione che è una matita nera che io non ho acquistato perché ho appena ricevuto la stessa matita ma in un'altra colorazione sto parlando appunto delle cupids arrow questa è la cupid arrow che era uscita con la palette wild berry e che non ero riuscita ad ordinare perché era sold out e mi sono detto ok prima di ordinare la matita nera vediamo se mi piace la formula anche perché di matite nera adesso aperte ne ho tante quindi se mi troverò bene con quella di questo colore magari penserò di acquistare anche quella nera io questa l'ho già utilizzata una volta e devo dire che in realtà la formula mi piace molto sono delle matite così che noi possiamo usare sia nella rima interna che per creare delle righe di eyeliner io ho scelto questa colorazione perché tante volte quando cerco delle matite da applicare ai trucchi viola o comunque sul prugna faccio fatica e questa secondo me è perfetta ve la sfumo anche un pochino così potete vedere meglio il colore eccolo qua è un viola prugna molto molto intenso e devo dire che resiste molto bene la mia paura è che non resistesse a lungo nella rima interna proprio perché appunto è la parte più umida a contatto con il nostro occhio invece devo dire che la tenuta è molto molto buona e il colore mi piace tantissimo è esattamente quello che stavo cercando e quindi sono molto molto contenta del mio acquisto io direi che questa qui potrei applicarla nella rima inferiore prima però voglio andare come sempre a dare un pochino di intensità alla rima superiore e come novità ho invece le due matite uscite in casa Clio Makeup quindi quella nera black e quella marrone cioco Clio infatti ha lanciato le sue prime matite occhi che sono appunto queste qui e io ho deciso di acquistare entrambe le colorazioni vi faccio gli swatches ma credo che andrò a utilizzare semplicemente quella nera invece quella marrone ve la farò magari vedere in uno dei prossimi video eccole qui questa è quella nera mentre questa è quella marrone devo dire che è un marrone molto scuro e un pochino freddo anche questo è un colore che secondo me è perfetto per andare ad intensificare un trucco ad esempio da giorno perché tante volte da giorno vogliamo intensificare l'occhio appunto ma senza esagerare e un nero magari risulterebbe troppo intenso e questo colore secondo me è un buon compromesso per dare intensità senza esagerare io adesso vado ad applicare la matita nera come sempre la applico nella rima ciliare superiore e all'angolo esterno questo è il risultato devo dire che la matita è nerissima e una cosa che mi ha colpito fin da subito fin dagli swatches è che sono veramente veramente morbidissime basta sfiorare la pelle e scrivono tantissimo e questo mi piace perché a me non piace stare lì a grattare sull'occhio già applicarlo nella rima superiore non è una sensazione piacevole se in più la mina è dura e dobbiamo stare lì a grattarci la palpebra di solito sono quelle matite che magari regala qualcuno che le usa all'esterno dell'occhio dove non c'è bisogno che siano appunto così morbide devo dire che mi ricordano tantissimo le mie matite preferite di pixie che anche quelle sono morbidissime e durano molto se così fosse devo dire che sono felice anche perché non sempre sono così facili da trovare ogni tanto sono esaurito ogni tanto Look Fantastic non ha tutte le colorazioni e quindi sono contenta di avere un altro prodotto con il quale mi trovo altrettanto bene tra l'altro Clio che sicuramente guarderai tutti i miei video fai uscire altre colorazioni perché secondo me la formula mi sembra molto valida e un panna io te lo comprerei subito quindi prendi i miei soldi e fammi un panna passiamo adesso alla Cupid's Arrow mi sono dimenticata di dirvi mi pare che il colore è il numero 3 quindi è la numero 3 e la vado ad applicare su tutta la rima inferiore come vi dicevo questa è una colorazione che ho cercato a lungo quindi sono contenta di averla trovata in una formula così valida e adesso faccio l'altro occhio e poi ci ritroviamo per parlare delle labbra questo è il risultato ho fatto anche l'altro occhio e ho applicato il mascara come sapete il mio preferito di questo periodo cioè il Lash Brug di Anastasia Beverly Hills e adesso non ci resta che passare alle labbra e per le labbra ho una novità sempre di Clio Makeup c'è uno degli ultimi Coccolove e sto parlando di Tutu i Coccolove sono uno dei miei prodotti preferiti in assoluto per due motivazioni perché sono veramente molto idratanti quindi non sono come quei balsami labbra che dopo 10 minuti abbiamo le labbra più secche di prima e poi perché sono veramente pigmentati quindi quando voglio indossare qualcosa sulle labbra che sia veramente idratante ma devo uscire e quindi voglio avere anche una certa intensità di colore secondo me questi sono un prodotto fenomenale come vi dicevo sono uscite due nuove colorazioni la prima in realtà è trasparente cioè lascia appena un velo rosato ed è dedicata all'ultima figlia di Clio io ho deciso di non acquistarla perché devo ancora terminare l'altra colorazione trasparente che ho al mio possesso che è TLK che è questa qui dal color azzurro così acceso che in realtà è pensato per lasciare solo un leggero sheen che vada diciamo a sottolineare il bianco dei nostri denti però appunto come colorazione trasparente avendo già questa non mi sembrava il caso per ora di ordinarne un'altra mentre l'altra colorazione è Tutu che è un malva freddo ed è stato pensato come complemento per MLBB che invece è un nude molto più caldo ve lo swatcho qui effettivamente è un colore molto freddo e volevo farvelo vedere swatchato a fianco alle altre colorazioni che posseggo quindi MLBB che è questo come vedete è la stessa tonalità ma più calda e poi Mandy che invece è un rosso ciliegia e ve lo swatcho qui a fianco questo veramente quando voglio un trucco giusto per andare a bere il cappuccino al bar ma voglio comunque un bel tocco di colore sulle labbra secondo me è un colore molto bello molto vibrante che mi piace tanto quindi noi oggi sulle labbra andiamo a testare Tutu eccolo qui eccolo qui ovviamente è un colore molto delicato e molto più freddo del trucco occhi forse sarebbe stato meglio in questo caso MLBB ma ci tenevo comunque a farvelo vedere swatchato sulle labbra questo era l'ultimo prodotto da testare insieme la formula la conoscevo già quindi so già che è un prodotto che mi piace sono felice di avere appunto anche un'alternativa nude più fredda che secondo me sarà perfetta ad esempio in autunno questo vi fa capire che ho deciso di non acquistare l'ultimo prodotto che fa parte della collezione di Nabla che sono tutta una serie di gloss per le labbra questo perché in primis il gloss è un prodotto che io non uso molto e in più perché sono delle colorazioni colorazioni che in realtà già non utilizzerei particolarmente ci sono un bronzo un marroncino e quindi appunto sul glosso ho glissato questo era tutto per questo video a me non resta che lasciarvi ai close up e al nome del vincitore del giveaway come sempre se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarci un mi piace iscrivetevi al canale se volete essere sempre informati su quando carico dei contenuti seguitemi anche su Instagram e mi raccomando fatemi sapere giù nei commenti se c'è qualcuno dei prodotti che ho provato che vi interessa come sempre se avete dubbi domande perplessità non esitate a scrivermi io sono sempre felice di rispondervi e di rimanere in contatto con voi a me non resta che mandarvi un grossissimo bacio e dirvi che se vi va io vi aspetto sempre qui cesanna ciao e il vincitore del giveaway è sì sì ticocca ticocca Maria Teresa Amendoni complimenti sì 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 sì